21 agosto 2022 Misurina, lì in fondo a sinistra le tre cime, via per l'esplorazione dei cadini di Misurina, qui dietro. Verso il rifugio Col de Varda. A pochi metri da qui il rifugio Col de Varda arriva da Seggiovia, invece via per il rifugio Città di Carpi di qua. Il Sorapis, lì in fondo a sinistra Averau Nuvolau e a destra Lettofane. Buongiorno ragazzi! Lì in mezzo il Lago del Vandelli. Eccoci a Forcella a Maraia e qui il rifugio Città di Carpi. Ed ecco la croda dei toni dello sfondo. Cima Cadin di San Lucano e Cima Cadin della Neve. Per il Fondasavio. Questo è il Pian della Muscia. Direzione Cadin delle Pere. Eccoci qua. Cadin delle Pere. Eccoci qua. Questa sulla sinistra, questa qui, è forcella della neve, invece io adesso andrò qui a forcella Verzi. Ecco il vivio tra la forcella della neve e invece su di qua forcella Verzi. Lì la segnaletica ufficiale della deviazione e qui il bollinato rosso con doppio bollino rosso che identifica il corretto passaggio alla forcella Verzi. Evidente segnaletica, forcella Verzi di qua. Sempre seguendo i bollini rossi molto presenti si arriva a questa parte attrezzata del sede della forcella Verzi con scalette. Sicurezza prima di tutto e poi su di là. E' bello questo. E' anche questa scaletta ballerina massiva. Ultimi metri per arrivare in forcella. Quota 2.550. Il sentiero attrezzato passava sul versante orografico destro, cioè il lato sinistro salendo. Adesso con i bollini sempre segnati si passa l'impluvio e si arriva in questo corridoio assicurato prima della forcella. E queste credo siano le ultime. Forcella Verzi. Wow, vado a vedere anche la targa. 2.250 segna. Invece è il mio GPS 2.5, sì 2.550, invece è il mio GPS 2.5 e 75 al solo ricalibro. Spettacolo. Spettacolo. E adesso via. E la forcella del nevaio è qua. Adesso vado qua. E questo qua sotto è il cadin della neve. Guarda che robetta, anche i scalini per arrivare in forcella del nevaio. Ed ecco forcella del nevaio. Wow. Wow, oltre cime. Che spettacolo. Eccolo lì, la targa. Forsella del nevaio. La forcella Verzi da dove sono venuto. Wow. Questa cima al cadin della neve. Qua dietro il cadin della neve. Lì in fondo il cristallo. La croda rossa. Spettacolo. E mo' devo scendere di qua. Turetta, eh? E questo è il cadin del nevaio. Purtroppo c'è quella chiazza grigia lì, è rimasta. Ma niente proprio quest'anno. Sciolto tutto. Ciò che il resto del nevaio. Il sentiero passerebbe di là, col bollino rosso. Ma cerco di saldarlo e non rovinarlo ancora di più. Eccoli sulla sinistra che spunta lì, il Fondasavio. Eccolo lì, il rifugio Fondasavio. Che spettacolo. Ed ecco qui, il rifugio Fondasavio. Passo dei Tocci, il rifugio Fondasavio. Adesso via per la forcella del diavolo. Sul sentiero 117 Alberto Bonacossa. E lì la forcella del nevaio da dove sono venuto. A sinistra, forcella del diavolo. Ed ecco, forcella del diavolo. Dopo vent'anni, è tornato in forcella. Discesa dalla forcella del diavolo. Fondasavio Dopo e quella lassù è la forcella della neve raggiunto quindi anche il cadin o ciadin della neve e adesso sentiero cai 118 direzione misurina dove mi aspetta l'hotel dolomiti des alpes per un bel paninazzo eccolo lì il monte rudo a destra il monte piana qua in centro a sinistra croda rossa ho tagliato per un impluvio che sembra più una pista direzione misurina ecco misurina parcheggio che si può utilizzare per raggiungere poi il monte piana oppure le tre cime di lavaredo ed ecco l'hotel dolomiti des alpes davanti alla strada che porta le tre cime di lavaredo adesso mi aspetta un magnifico panino spaghe formaio e birreta dolomiti avevo detto che meritava fatto scorta di prodotti tipici all'hotel des alpes ed ecco qui misurina chiusura di un'escursione spettacolare ai cadini di misurina